Nato da uno studio finalizzato alla valorizzazione non solo del nucleo storico del paese ma anche del più recente urbanizzato, il nuovo lungolago di Iseo, compreso tra Largo Dante e Lido dei Platani, sta lentamente prendendo forma. La prima tranche dei lavori, frutto di una compartecipazione tra comune e autorità di bacino dal costo di poco più di 600 mila euro, è stata ultimata. A breve inizierà la seconda fase, il completamento della messa in sicurezza, ora oggetto di manifestazione pubblica, per la quale è stata stimata una spesa di 1.017.000 euro derivanti dal PNRR, a cui se ne aggiungono altri 343.000 dagli nazioni dei beni immobili comunali. Si passerà poi al terzo stralcio, ovvero la riqualifica della pavimentazione per mezzo del contributo regionale per i borghi storici pari ad un milione di euro, cui vanno aggiunti altri 350.000 euro di alienazioni e altri 80.000 recuperati dall'avanzo di amministrazione. I vicoli troveranno un imbocco verso il lago, la pavimentazione sarà semplice e lineare, composta da materiali accuratamente selezionati, mentre porfido e ringhiere esistenti verranno recuperate. La riqualifica complessiva del lungolago tra gli obiettivi primari dell'amministrazione Ghitti, insieme alla messa in sicurezza della scuola primaria, si stima avrà un costo complessivo di 3.435.000 euro, e tenendo conto dell'interruzione del lavoro in chiave stiva nei mesi di luglio-agosto, onde evitare disagi al turismo, dovrebbe essere ultimata entro gennaio 2024. Il lungolago di Iseo cambierà molto, cambierà in positivo. È una riqualifica complessiva che vuole trovare una nuova immagine, un nuovo volto, vuole cercare e valorizzare ciò che è la memoria storica. Una riqualifica complessiva, una messa in sicurezza e una valorizzazione anche del tessuto urbanizzato consolidato retrostante. L'obiettivo, compatibilmente con la situazione meteorologica e il livello dell'acqua, che ovviamente non dipende né dall'amministrazione comunale di Iseo, né tantomeno dalla ditta che vincerà e che realizzerà l'opera, l'obiettivo, ribadisco, è quello di terminare i lavori e fare l'inaugurazione del nuovo lungolago a Capodanno 2023. Se così non fosse, sarà sicuramente nelle settimane successive. Un lungolago nuovo, un lungolago che guarda ai turisti, al turismo e al commercio, come è giusto e consono per un comune come Iseo.